A ricevere il premio Non è un pallone per vecchi del Ravenna Football Club, giunto al terzo anno, è stato Giuseppe Bergomi, un monumento per tutto il calcio italiano e un esempio per le nuove generazioni. Al palazzo dei congressi di Largo Firenze, l'ex difensore ed ora commentatore televisivo è intervenuto per parlare dei talenti perduti e l'educazione che riveste lo sport. Ho fatto la cosa più bella, non ho fatto sacrifici ma ho fatto fatica per raggiungere i miei obiettivi e i miei traguardi e quindi la quotidianità, gli allenamenti, ma soprattutto sono state le persone che mi sono state vicine soprattutto nel settore giovanile, mi viene in mente gli allenatori da Arcadio Venturi, da Cella, da tutte quelle persone che mi hanno fatto capire cosa voleva dire stare sul campo da calcio, i valori, lo sport che questo sport trasmette. Quindi da questo punto di vista sono stati loro che mi hanno aiutato a crescere, mi hanno fatto maturare e poi mi hanno portato nel mondo professionistico, ma fondamentalmente non ottieni niente se non riesci a far fatica. I ragazzi di oggi hanno dei valori, ognuno di loro ha sempre una chiave d'entrata, basta saperla cogliere da questo punto di vista. L'unica cosa è che loro devono avere degli esempi positivi, e gli esempi positivi perché ce ne sono, ma mi vengono in mente i giocatori che hanno appena smesso, che non sono state bandiere come i Zanetti, come Del Piero, come Paolo Maldini, come lo stesso Totti, insomma. Quelli sono gli esempi che hanno dedicato tutta la loro passione, tutta la loro carriera, insomma, per una maglia. Grazie. Grazie. Grazie.